Ciao a tutti amici, benvenuti sul mio canale in cui parliamo di orchidee, io sono Daniele. Oggi vi volevo far vedere, anche se già ve l'ho presentato su qualche shorts o su qualche altro video in cui parlavamo di radici, la fioritura del proprio pedilum filippinese. È una specie botanica, quindi non è un incrocio. Per me è motivo di gioia perché sono riuscito a custodire bene i papiopedilum, ma soprattutto sono riuscito a far fiorire il multispike o il multifiore. Ne sono venuti tre direttamente, poi c'è il quarto bocciolo che è qua, che poi verrà fuori. È un multifiore, bellissimo. Allora, la cosa che vi volevo dire nel video di oggi è che per me gestire un papiopedilum fino a poco tempo fa, come penso per tutti, era un po' un problema. Perché non trovavo il substrato giusto, non trovavo la condizione ideale per poter far vivere queste splendide piante, queste splendide orchidee in appartamento. fino a che, tra prove e controprove, sono riuscito con la fibra di cocco a trovare un substrato che non mi crea problemi. Anzi, diciamo che con la fibra di cocco sono riuscito ad arrivare a morti zero, quindi piante morte zero. e sto testando la fibra di cocco come substrato e vi ci trovo particolarmente bene, soprattutto con loro che sono piante semiterrestri. Non so se poi mettendo, oltre che fibra di cocco, anche per l'idee o mettendo qualche altro materiale, diamo ancora un valore aggiunto, non lo so, fino a questo punto non ci sono arrivato. Questa è fibra di cocco pura, probabilmente, dopo che ho finito il sacco, quando la ricomprerò si trovano di altre aziende anche fibre di cocco addizionate con perlide nella ragione del 70 e 30%. Proverò, perché la perlide, l'agriperlide in questo contesto dovrebbe aumentare l'ossigenazione delle radici stesse, anche se sono semiterrestri, proviamo, proveremo, dato che ho finito il sacco, quando lo comprerò lo comprerò con questa aggiunta. Allora, il fiore è spettacolare, non pensavo che potesse essere una cosa del genere, per me è la prima esperienza con un multifiore, una prima esperienza con un papiopedilum botanico. Diciamo che la cosa importante per gestirla è sotto il luce artificiale, poi farò un video sulla tipologia del luce artificiale che ho, però è qualcosa di speciale, sia perché vengo dal periodo storico in cui avevo difficoltà a gestire i papiopedilum, e sia perché poi questo è un multifiore, quindi la fioritura è un pochino più lunga, però è qualcosa di eccezionale, è qualcosa di... adesso vi faccio vedere una cosa, forse è una caratteristica mia, vi voglio far vedere, dietro, perché i fiorituri sono belli davanti, però sono belli anche dietro, se guardate dietro che disegno che hanno sul sepolo dorsale, cioè sembrano fatti a mano, qualcosa di speciale, non fateci caso, ma io servo la pianta in tutte le angolazioni, guardate che disegno, che straccia di arte, sembrano fatti a mano, cioè sembrano fatti con un pennarello, qualcosa di particolarissimo, poi ognuno è diverso dall'altro, guardate che meraviglia. Allora, io nei miei video, forse dico sempre le stesse cose, è bello, 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 spettacolare, ma al di là di tutto, la soddisfazione mia grande è aver trovato finalmente un substrato che mi li fa vivere, e questa pianta, appena arrivata a casa, l'ho subito travasata in fibra, non aveva bocciolo, non aveva lo stelo floreale, era praticamente come questa che vedete, ma innanzitutto questa è una pianta spettacolare perché ha tantissimi getti, guardate qui al centro, verrà fuori da quest'altra pianta, oramai questa fiore l'ha fatto, non ne farà più altri, ma questa che è una ricrescita laterale sta già predisponendosi per buttare fuori il nuovo stelo floreale una volta che questo ha finito il suo corso. Per me è un motivo di vanto, di fascino, non so se riesco a trasmettervelo, però ecco, innanzitutto la pianta in partenza è una pianta, non è sembrare un tosto, bello, abbiamo un getto qui, un getto piccolino qua sotto, abbiamo quest'altro, abbiamo dietro, ne abbiamo, esatto, uno, due, tre, quattro, ne abbiamo uno qua che sta facendo il fiore, forse ce ne abbiamo più di uno che farà il fiore, guardate, uno qua, da qui verrà fuori il fiore, ne abbiamo quattro getti, quindi in partenza la pianta era già sana, io ho semplicemente fatto il rimbaso nella fibra, l'ho portato a fioritura, non dà segni di sofferenza in questo composto, guardate che c'è un po' di umidità ancora, la fibra di cocco nonostante tutto che sarà il materiale del futuro, diciamo che io sto nei miei video testando, sperimentando e quant'altro, asciuga molto velocemente, se vedete le goccioline d'acqua sono poche, quindi questa domani darò l'acqua, quando do l'acqua non arriverò mai a far sì che l'acqua esca da sotto, perché vedete mentre date l'acqua, io uso i vasi trasparenti, ve lo consiglio per prenderci mano con la fibra di cocco, il vaso trasparente vi fa vedere quello che voi state bagnando, cioè fino a che punto scendete con la bagnatura, quindi io diciamo che sono nei miei video un po' sui generis, perché vado in fibra di cocco pura, vado col vaso trasparente, la radice non dà assolutamente problemi, perché la radice nel vaso trasparente sta bene, però riesco a vedere l'attività della radice, riesco a vedere il mio livello di bagnatura, poi si formeranno delle alghette verdi, voi vedete qua delle alghette verdi che verranno fuori, non è bagnatissimo, anche se è scuro, ma non è bagnatissimo, perché qui vedete che dal forellino che è abbastanza asciutto, quindi domani bagnerò, mentre bagno l'acqua scenderà, l'umidità, non mi è mai capitato di fare il rigagnolo d'acqua sotto, perché tanto non ce n'è motivo, quindi io nei miei video, il mio motivo di esistere su YouTube è solo quello di farvi vedere che con la fibra di cocco i papioperylum stanno alla grande, quindi non ho difficoltà a proporvelo come substrato, abbiamo detto che il bark non riesco assolutamente a trovarmi ci bene, perché nell'ambiente domestico non asciuga mai, non asciuga mai completamente, rimane sempre umido, quindi basta che si deteriora un po' il bark e poi da problemi, come luce 12 ore e mezzo, 12 ore e mezzo, piene se non 13 di luce artificiale, poi un giorno farò il video, vi spiegherò tutto il discorso della luce artificiale, ci sono delle ventole che tengo sempre accese per dare un buon giro, un movimento d'aria, perché l'ambiente domestico con l'aria stagna non fa altro che alimentare questo che vedete, quindi è importante che ci siano i ventilatori, luce e i ventilatori vengono ancora prima del congime, perché poi se no rischiamo di congimare nulla, perché se non c'è il giusto movimento dell'aria, c'è un YouTuber, Eds Orchid, in inglese, che spiega proprio che i papiopedilum seggerano dalle foglie dei vapori, dei vapori che potrebbero essere un po' tossici per la pianta stessa, io non sono così esperto in materia, però se vedete, questo hanno definito che è un guru, un guru per quello che riguarda i papiopedilum e i papiopedilum, lui sostiene che è importante la ventilazione per togliere quei vapori di esalazione, di uscita di anidride carbonica, uscita di gas che la foglia stessa del papiopedilum fa, però ripeto, non posso documentarvelo, non posso spiegarvelo, ve lo ripropongo così proprio a pappagallo come l'ho sentito dalla traduzione inglese. Concimazioni, concimazioni, i papiopedilum ne vogliono poca, allora io per non sbagliare, anziché dare il 20-30-10 o il 20-20-20, questo è della Varesina Orchidei, l'ho comprato dalla ditta, che vedete qua, da Gioele Porrini, la pianta è della Varesina Orchidei di Gioele Porrini, ce l'ho il congime, lo tengo, però siccome questi vogliono poca quantità di congime, allora mi son buttato sull'organico con titoli più bassi, con i papiopedilum e i congimi chimici c'è da stare un po' particolarmente attenti e soprattutto gli alti dosaggi, questo in questo caso è il 30, no il 10-30-20, questo è il 10-30-20, però non vado con i congimi di questo genere, qui lo uso pochissimo, diciamo ce l'ho, ma preferisco usare i titoli più bassi del congime organico, tipo la Combo, tipo altre aziende. Sono buoni anche questi qua, che sono della Cifo, che sono estratti di alga, eccetera, eccetera, potete utilizzare il congime per la fibra di cocco, io mi butto su questo, ve l'ho fatto già vedere in altri video, così non faccio errori, è completo, contiene anche il magnesio, non faccio errori, la fioritura c'è, quindi non è che se voi non date il vendi vendi vendi, la pianta non fiorisce, questa è gestita completamente o con congime per la fibra di cocco o addirittura in alternativa quello della Combo completo che ha delle dosi di magnesio un pochino più alte, quindi diciamo non è una pianta esigente in fatto di congime, l'importante è congimarla poco, sempre, io appartengo a quel genere di coltivatori che quando bagnano c'è già il congime all'interno della bagnatura, quindi do sempre il nutrimento come penso che possa accadere anche in natura. La fibra di cocco non faccio il risciacquo, non ho bisogno di risciacquare perché la fibra di cocco, ve lo ricordo, è chimicamente un inerte, non contiene nulla, quindi non ci sono sostanze presenti all'interno, se non date niente la pianta prende niente, quindi concimazioni ad ogni bagnatura con dosi più basse. Va bene, spero di avervi fatto vedere qualcosa di bello, di avervi invogliato nel tenere queste piante che sembrano un po' rugnosette ma se uno riesce a trovare il compromesso giusto del substrato avrete grandi soddisfazioni. Monitorate tutto con il vasetto trasparente, non c'è una regola se trasparente o no, io lo faccio solo perché voglio vedere quello che faccio in questo substrato, diciamo nuovo, recente come scoperta e soprattutto mi permette di avere queste piante sempre in vita e non soffrire perché poi ne muoiono. Grazie di avermi seguito, grazie a presto, al prossimo video.